I dubbi di formazione sono diversi. Alcuni legati a valutazioni di ordine fisico, altri legati a considerazioni tecniche ed in mezzo a questi la certezza è una. Contro il Verona dovranno arrivare ai tre punti per ridare slancio e sostanza alla classifica e lasciarsi alle spalle le fibrillazioni seguite alla brutta sconfitta di Reggio Emilia. Messo in discussione a caldo dalle parole del DS De Santis, Nicola ha incastrato la fiducia della proprietà che però pretende un cambio di rotta. In soldoni dunque servono risultati convincenti ed in linea con gli investimenti sostenuti in estate e se qualcuno è stanco o marca visita, ecco venire in soccorso con i calciatori che fin qui hanno giocato poco, forse perché non al top o forse perché in alcuni casi non hanno ancora convinto l'allenatore. Solo che ora chi è nella scomoda posizione di dover convincere, come fosse dinanzi ad una commissione d'esame, è proprio allenatore. La fiducia piena rinnovatagli dal presidente Revolino richiede fatti concreti, altrimenti le valutazioni fatte a caldo subito dopo la rovinosa sconfitta di domenica quasi non avrebbero avuto senso e da loro occorre dare una serzata in una stagione partita bene ma caratterizzata più da complimenti che da vittorie. Ed ora che sono arrivate due sconfitte di file e campanelli d'allarme sono suonati in maniera alquanto fragorosa, per cui domenica come anche una delegazione di Ultrasacchie su un incontro con la squadra occorrerà essere più affamati, maggiormente votati a risultato che preoccupati del lato estetico. Vincere e convincere sul piano dell'atteggiamento mentale sarà la cosa più importante. Ci sono ancora tre giorni e due allenamenti dopo quello di stamattina per far cadere i dubbi di formazione. Fazio vorrebbe esserci ma non è ancora al top a causa di un problema alla caviglia. Diomber resta in preallarme e dovrebbe giocare l'altro minuto al posto di Bron. Dani Duc e Lovato, ex di turno, sono pronti. Fazio però approverà fino all'ultimo a rendersi disponibile. In mediana ci sono calciatori appannati, in pratica tutti e tre i titolari delle prime giornate. Kassanos potrebbe dare il cambio ad uno di loro. Un altro candidato è Radovano e ci mente su Boinen. Permangono dei dubbi anche se il norvegese ha smaltito il problema al flessore. In attacco anche Dia lamenta qualche fastidio all'anca ma è recuperabile per domenica. Spera in una chance Bonazzoli, pronto a duellare con l'altro pistolero Piontek per ritrovare Maglia da titolare e goal. Grazie a tutti.